Che cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che se una persona è sana, ho preso un bambino, ma su questo ritorneremo, può passare questa sintomatologia, può attraversare questa sintomatologia e dopo alcuni giorni, rispetto a una influenza stagionale che abbiamo avuto negli ultimi dieci anni, invece di impiegare tre, quattro giorni può impiegare una settimana, addirittura dieci giorni a stare meglio il soggetto, però alcune di queste persone, nell'1%, dovranno ricorrere non al pronto soccorso, ma all'ospedalizzazione, cioè arriveranno in pronto soccorso, noi fare una diagnosi di insufficienza respiratoria grave, queste persone dovranno essere recuperate. Cioè pazienti che diventano affetti da una flocosi delle vie aeree che è caratterizzata da una complicanza, la cosa più semplice, la bronca polmonica, vuol dire che si formano delle aeree del colmone che non respirano in modo adeguato perché sono infetti, c'è un'infiammazione e c'è la possibilità che una parte del colmone non respira e quindi queste persone sono necessitate di una terapia più agressiva rispetto all'antibiretico, rispetto alla capipirina o all'iprofeno, ma allo stesso tempo possono essere curate perché c'è la terapia antibiotica perché esiste la ventilazione artificiale, la ventilazione che può essere invasiva, come nel caso della signora di Alvarello che abbiamo trasferito in animazione, non invasiva perché a Borgotaro siamo comunque riusciti a organizzare nell'ultimo anno una terapia non invasiva, c'è una terapia ventilatoria con ossigeno spinto in determinate condizioni, in determinate quantità, quindi con dei flussi che possono comunque mantenere la terapia ventilatoria per gli aerei e garantire una buona respirazione al paziente.